Proiezioni ortogonali di un parallelepipedo Figura A Prendiamo in considerazione gli spigoli 1 e 2, evidenziati in colori diversi e individuati sui tre piani. Nella figura i punti sono indicati con un pallino allo scopo di metterli in evidenza. Lo spigolo 1 è stato chiamato uno primo nella vista impianta, uno secondo nel prospetto e uno terzo nel fianco. Allo stesso modo si procede per lo spigolo 2. Quando uno spigolo rimane nascosto, come nel nostro caso lo spigolo 2 nella vista di fianco, per convenzione viene indicato tra parentesi 2 terzo. Figura B Vengono considerati gli spigoli 3 e 4. Anche in questo caso, gli spigoli nascosti sono stati indicati tra parentesi. Figura C Vengono mostrate le proiezioni ortogonali complete con le indicazioni di tutti gli spigoli, sia in vista che nascosti. Allo stesso modo potete numerare gli spigoli degli altri solidi geometrici proposti nel testo. e indicarli opportunamente nelle tre viste. Vengono mostrate le proiezioni ortogonali complete con le indicazioni di tutti gli spigoli, Vengono mostrate le proiezioni ortogonali complete con le indicazioni di più di più di più. Grazie a tutti.